Venerdì 10 luglio la città di Fano festeggia il suo patrono San Paterniano. Secondo alcuni racconti il santo nacque a Fano nel 275 d.C. e fu il primo vescovo della cittadina fanese, pontificando per ben oltre 40 anni e morendo poi il 13 novembre del 360. Ma San Paterniano è venerato dalla Chiesa Cattolica come santo e protettore anche dei comuni di Grotta Mare e Cervia. La città di Fano e la sua diocesi lo festeggiano il 10 luglio, anniversario del trasferimento delle sue reliquie in una cappella posta a destra dell'altare maggiore e tuttora conservate in una cassetta sotto il cuscino su cui poggia la testa. Un calendario ricco di appuntamenti tra eventi e sante messe visibile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Una delle novità di questa edizione è il concerto di campane in programma per giovedì 9 luglio alle ore 21 e 15. Avremo un concerto di campane perché quest'anno da poco tempo già sono state piazzate sul campanile otto campane quindi San Paterniano è il campanile che ha più campane dove come inaugurazione faremo questo concerto di campane. Saranno tre giovani amanti del campanile a farci dei motivetti e delle cose simpatiche quindi ognuno da casa potrà ascoltare dopo c'era questo concerto di campane. Le celebrazioni del 10 luglio invece saranno comunque in programma dal mattino fino alla sera ma con degli accorgimenti in più dovuti alle norme del coronavirus. Avremo una serie di celebrazioni alle 7 alle 8 e mezza alle 10 alle 11 e 15 celebrerà il nostro Vescovo con le varie autorità e poi alla sera alle 17 il nostro padre provinciale Sergio Lorenzini poi alle 18 e 30 Monsignor Tonucci e poi la sera alle 21 e 15 il nostro di nuovo il nostro Vescovo. Proprio per questo fatto del coronavirus quest'anno abbiamo pensato di spostare l'una di San Paterniano non come gli altri anni davanti alla balaustra ma metterla nella navata laterale per dare possibilità alla gente in due file di scorrere ad agio e abbiamo pensato dato che il flusso della gente è molto di collegare il nostro chiostro con la basilica. Quindi coloro che arriveranno più tardi dovranno purtroppo accontentarsi di andare nel chiostro per ascoltare la basilica. Lì si potrà sentire, avremo le sedie, quindi ognuno comodamente può e religiosamente ascoltare la celebrazione. La Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti delle ore 11 e 15 sarà trasmessa in diretta sul canale 17 di Fano TV.